Salve a tutti, vi ringrazio del vostro supporto al canale Ispettori d'Igiene, mi raccomando lasciate tanti like e tante iscrizioni al canale, ovviamente attivate anche la campanella per essere sempre aggiornati sulle novità del canale. Oggi un piccolo scoop, il direttore di Rai 2 ha comunicato che si verrà realizzato il collegio 4. La novità qual è? Che probabilmente sarà ambientato non negli anni 60, vi ricordate c'è stato il collegio 1 nel 1960, collegio 2 nel 1961 e poi siamo passati a 1968. Bene, addirittura l'intenzione è di essere ambientato in reality negli anni 30, gli anni del regime. Questo significa una rivoluzione completa sia degli insegnamenti, sia dell'educazione, sia anche per quanto riguarda le materie. Pensate che all'epoca, quando vi era il regime, c'era anche la materia militare, quindi se la cosa verrà realizzata ne vedremo sicuramente delle belle. Vi ringrazio, continuate a vedere i vari video del canale Ispettori d'Igiene, lasciate like e iscrizioni. Grazie e alla prossima! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!